Questa città ci morde spesso e lo fa senza denti Si fa odiare piano piano finché non diventi Siamo qui con La Monarchia dalla Val d'Elsa, manca Lorenzo, ricordiamolo, ma invece sono venuti a trovarci oggi Matteo, Giulio, Gianmatteo e Lapo Un gruppo, una band insieme da quasi dieci anni perché vi siete uniti, vi siete formati nel 2012 Raccontatemi un po' gli inizi e anche questo nome, come mai La Monarchia a me fa venire in mente Lady Oscar Ma non so se sentivo qualcosa Allora, noi sì, abbiamo iniziato a suonare insieme nel 2012 perché condividevamo una sala prove in Val d'Elsa E suonavamo tutti in progetti diversi E poi piano piano, dopo le prove, insomma abbiamo iniziato un po' così nel ritaglio di tempo Come progetto parallelo e poi via via negli anni è diventato una cosa, il progetto principale La Monarchia Poi si sono aggiunti Giamma e Lollo e il nome diciamo che è stata una roba che abbiamo scelto perché Soprattutto per la parola, per il suono, non tanto è un po' distaccato dal significato In quel periodo lì c'erano un sacco di band che avevano nomi in inglese, tra cui le nostre, insomma nomi anche molto lunghi Quindi non si ricordava bene, c'era sempre quella roba che quando andavi a un concerto, sai tipo come si chiamava la band che abbiamo visto ieri Insomma nessuno magari si ricordava i nomi delle band oppure c'era il problema, si iniziava con Google a cercare Quindi c'era sta roba anche dell'indicizzazione, insomma E quindi si voleva un nome che fosse di impatto, insomma che in qualche modo rimanesse nel bene o nel male un po' agrodolce E in quegli anni lì io stavo studiando, stavo studiando letteratura e mi trovavo davanti a questo testo di La Monarchia di Dante E quindi insomma questo nome mi folgorò un po', mi piaceva Poi c'era anche questo concetto di nobiltà d'animo che poi è scollegato completamente dal testo di Dante Insomma non c'entra niente sta roba E niente, quindi insomma ce lo siamo presi Per ora nessuno ci ha accusato, insomma, di essere filomonarchici o cose varie Quindi è stato abbastanza capito All'inizio c'era un po' sto dubbio, si diceva, beh, forse qualcuno magari traviserà, insomma Benissimo, abbiamo appurato e non avete contatti con Filiberto di Savoia E volevo chiedervi, voi avete deciso fin dall'inizio di cantare in italiano E però nei vostri ascolti leggevo che in realtà sono molto esteri Band anni 90 come Smashing Pumpkins, Dinosaur Junior Quindi insomma quali sono un po' i vostri interessi, le band che magari vi ispirano di più? Abbiamo scelto l'italiano perché chiaramente era la cosa più semplice per esprimerci Insomma qualcosa di inglese insomma la sappiamo però comunque non è la stessa cosa Cioè comunque quando si esprimi nella tua lingua chiaramente insomma hai un vocabolario più esteso Cioè hai possibilità di argomentazione insomma era più bello E poi c'era anche un po' la sfida di provare a riportare quello che ascoltavamo in lingua straniera Insomma in italiano e gli ascolti si sono quelli che hai citato Che poi sono quelle cose che ci siamo ascoltati e macinati Cioè negli MP3 che avevamo quando eravamo 17-18 anni insomma dopo l'adolescenza Insomma che è poi secondo me il momento in cui le cose si rimangano più attaccate addosso Poi chiaramente negli anni, quindi quello è il background musicale che un po' abbiamo in comune Poi negli anni chiaramente insomma crescendo tutti ognuno ha fatto poi ascolti più disparati Cioè chi è cantautorato e altri generi Però chiaramente quando poi vai a rifare musica tendi secondo me a rimettere in musica un po' quello che hai ascoltato E chiaramente quello che hai ascoltato in quelli anni lì è quello che ti è rimasto più addosso insomma Avete fatto un'esperienza che è un po' il classico di tante band Il Rock Contest è un concorso che insomma ha visto veramente tanti tanti musicisti Forse quasi tutti i musicisti italiani ci sono passati E vi chiedo un po' di raccontarmi quell'esperienza Il Rock Contest ormai insomma sono passati diversi anni Comunque fu veramente bello anche perché fu un po' l'inizio anche nostro perché ci eravamo formati da non molto tempo Si suonò su palchi di Firenze comunque noi ci andavamo a sentire chi ci piaceva Quindi ci faceva molto piacere andare a suonare su quei palchi lì E poi arrivamo fino a un finale quindi eravamo veramente contenti in quel momento lì Era uno dei primi palchi seri insomma su cui c'era questa opportunità insomma La FLOG, il Tender, il Conference, insomma sono un po' delle istituzioni Quindi era la prima volta su un palco serio e è stato bello anche per quello E c'era ancora il Tender e come dicono i giovani mi hai sbloccato un ricordo Insomma tornate oggi con un singolo che è un preludio all'album che speriamo uscirà quest'anno Che è Ossa, una canzone che parla di tanti temi e mi ha colpito un po' due diciamo principalmente Il tempo che passa, quindi pensare a quello che sarà dopo di noi E ma anche un po' a vivere in provincia che è un'esperienza che fanno tantissime persone Insomma sono pochi in realtà quelli che poi vivono nelle metropoli soprattutto in Italia Esatto, cioè quel testo lì parla proprio della provincia, dei posti in cui viviamo Alcuni di noi e dove siamo cresciuti E' una roba che volevamo parlare da tanto Solo che per parlare di queste cose probabilmente ci voleva tempo insomma un po' per capire meglio E sicuramente anche le esperienze poi che ognuno singolarmente ha fatto Per studio, lavoro, insomma fuori provincia, nelle città, all'estero eccetera eccetera Sono servite anche per, insomma c'era bisogno di ritornare, di rivedere un po' i posti in cui siamo cresciuti da fuori Con una, insomma in maniera un po' più distaccata E che poi noi praticamente siamo tra Firenze e Siena Quindi abbiamo Firenze chiaramente che è il riferimento più grande Cioè quella è un po' la metropoli da noi E poi noi siamo diciamo quella via di mezzo fra il paesino Cioè non è neanche un paesino però è una città che non è ancora metropoli insomma Quindi c'è un paesone, un paesotto E qui con tutti i pro e contro E quindi c'è questo, c'è sempre stato almeno per noi E per questa cosa della musica un po' questo rapporto amore-odio Perché comunque ci stavi bene, c'è un sacco di cose che ti vengono anche particolarmente semplificate Magari rispetto a chi vive in città Però su questa cosa per esempio della musica, dell'arte in generale Siamo sempre un po' un passo indietro Perché comunque le mentalità sono più ristrette Insomma ci si sta un po' più stretti rispetto alle città Veniamo da un anno di pandemia E c'è chi, i musicisti diciamo si dividono fra quelli che hanno scritto tantissimo E fra quelli che invece non ci sono riusciti Perché appunto non si vivevano molto bene in questo periodo Voi a quale di queste due tipologie appartenete? Guarda noi in realtà siamo stati abbastanza nella sfortuna fortunati Perché è stato il momento in cui abbiamo iniziato a lavorare alle canzoni nuove Ossa appunto è una di quelle E quindi ci siamo reclusi per un po' in studio Con le dovute distanze Ovviamente fuori dalla prima restrizione E ci siamo ritrovati poi dopo E abbiamo capito che avevamo un po' di tempo per pensare e capire che direzione dare insomma al progetto E quindi è stato molto produttivo in realtà Però non vediamo l'ora di tornare a suonare Perché esistiamo il momento in cui siamo su un palco Speriamo che quest'estate ci porti tanti concerti Insomma i festival piano piano stanno uscendo Vi chiedo se anche voi avete magari qualche data che possiamo poi trovare sui vostri social Non abbiamo ancora delle date fissate Però siamo contenti perché comunque abbiamo visto anche noi Si sta muovendo cose Abbiamo ricevuto un po' di proposte Siamo felici E quindi si spera che da fine giugno, primi di luglio Già insomma si riesca a fare dei bei concerti Insomma anche senza grosse restrizioni In attesa Allora ragazzi bocca al lupo che Dio salvi la monarchia Grazie a tutti Creavi il lupo Creavi anche la regina Questa monarchia di queste quattro persone Cinque Saya précici Sa behövo E pensano che nessuna guia Ho 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 Grazie.